Bisogna fare qualcosa, noi abbiamo dei deputati, dei rappresentanti del PD eletti nel nostro territorio, però vorremmo vedere da questi deputati concretezza su temi molto importanti e molto sentiti dai cittadini. La stessa cosa all'amministrazione, c'è un silenzio immane su questa cosa. Noi abbiamo proposto la riorganizzazione e l'utilizzo della Polizia Municipale, che possono dare con servizi diversi un grande respiro alle forze dell'ordine. Invece la Polizia Municipale purtroppo notiamo che viene utilizzata per far budget, quindi come cassa, bancomat e penalizzando fortemente i cittadini, quando invece potremmo avere una visione molto più a largo raggio. Avete chiesto informazioni però anche per quanto riguarda le telecamere di videosorveglianza. Sì, la domanda sorge spontanea. Si è parlato di queste telecamere, otto se non sbaglio all'inizio, è stato fatto un bando per la ditta a cui è stato assegnato l'appalto, credo di Rimini ho letto, ma da allora ad oggi noi non abbiamo avuto più risposte delle telecamere, che tra l'altro sono abbastanza importanti comunque. È un occhio in più.